Loro non possono ignorare quello che è successo. Sono un colosso della chimica, possono fare tutto quello che vogliono, quelli se ne fregano. Possono anche osteggiarti, ma la cosa non sminuirà quello che hai fatto. Andrà così invece. È esattamente così che andrà. Vogliono dimostrare al mondo che lottare non serve. Guardate, diranno, neanche lui riesce a uscire dal labirinto che si è costruito da solo. Il sistema è corrotto. Vogliono farci credere che ci proteggono, ma non è così. Noi dobbiamo proteggerci da soli. Nessun altro lo fa. Non lo fanno le imprese, né gli scienziati, e non lo fa il governo. Solo noi.